Buongiorno a tutti, mi chiamo Maurizio Tesio, sono il responsabile tecnico nazionale della Semlao in Giù Italia. Semlao in Giù Italia prende il nome dal Gran Maestro Semlao di Hong Kong. Il maestro Semlao, il Gran Maestro Semlao è stato l'ultimo assistente diretto del Gran Maestro Ipman. Ad oggi insegna a Hong Kong e tutti noi, studenti, allievi diretti, discepoli e appartenenti alla Semlao in Giù Italia, ogni anno viaggiamo verso Hong Kong per cercare di migliorare il programma tecnico. Il programma tecnico è proprio quello che oggi andremo a vedere. La Semlao in Giù Italia ha un sistema tecnico diviso in programmi. Ci siamo avvicinati tantissimo al sistema di Hong Kong, a quello che il Gran Maestro Semlao, a tavolino insieme al suo figlio Sifu Maxwell Au, abbiamo creato il sistema. Il nostro sistema tecnico nazionale si divide in forme, quindi la prima forma si chiama Siu Lintao, che vuol dire piccola idea, ed è tutto basato sulle forme, quindi il percorso che deve fare un nostro atleta ha bisogno dello studio della forma, per avere una corretta immagine di come è strutturato il nostro sistema, in quanto dalle forme noi ricaviamo le tecniche d'attacco e di difesa. La forma Siu Lintao è quella che ci insegna la base, quindi tutto quello che ho appena detto, quindi la linea centrale, che viene sviluppata e allenata nella prima forma dell'uniccio, che si chiama Siu Lintao. La Siu Lintao comprende il colore bianco, il grado di colore bianco, il grado di colore giallo e il grado di colore arancione. Ogni grado, naturalmente, ha un proprio percorso. Questo percorso necessita di un esame finale per poter passare al grado successivo. Un particolare del nostro sistema è che tra una forma e l'altra c'è un esame. Se non si passa questo esame, non si può andare allo step successivo, anche se una persona dovesse fare bene tutti i propri programmi. Ma la forma per noi è talmente importante, quindi va studiata perfettamente ed è soggetta ad esame. Una volta che noi abbiamo studiato i programmi, i primi tre programmi, bianco, giallo e arancione, si passa allo step successivo e si va a studiare la forma Siu Lintao. Al contrario della forma Siu Lintao, che prevede lo studio della posizione, quindi in un modo statico, per poter allenare tantissimo quello che sono le basi, soprattutto in una posizione, nella nostra posizione di Siu Lintao, la forma Siu Lintao, che è la seconda forma, porta tutto quello che è il movimento che nella forma Siu Lintao non abbiamo studiato. quindi il movimento di Siu Lintao e naturalmente quello che sono i passi. Infatti la forma Siu Lintao, vista, è fatta, ha all'interno tutto quello che sono i vari movimenti. La forma Siu Lintao, comprende anch'essa tre programmi, il verde, il marrone e il blu. Come per la forma Siu Lintao, la forma Siu Lintao deve essere conclusa ed è soggetta anch'essa ad esame. Tutte le forme del nostro sistema sono soggette ad esame. Quindi per passare allo step successivo anche l'esame della forma Siu Lintao deve essere svolto. Una volta che il nostro sistema, il nostro atleta ha finito la forma Siu Lintao, Arriviamo alla terza forma, la forma BUG. BUG è una forma molto particolare che sviluppa l'uso soprattutto delle mani e delle dita. BUG in senso vuol dire dita che trafiggono e si impara, una buona percentuale, ad usare delle tecniche di recupero. Quindi il nostro sistema è un sistema abbastanza completo, arrivando ad usare tutte le articolazioni del corpo, quindi tutte le mani, le braccia, le gambe, una mobilità sciolta del proprio corpo in base al cedere alla forza. BUG naturalmente ci insegna a colpire con le dita, soprattutto in parti molli e quindi, come dicevamo all'inizio, soprattutto verso gli occhi e verso la gola. La forma BUG comprende anch'essa tre programmi, quindi comprenderà il rosso, il nero e il nero bordato di giallo. Una volta conclusa la forma BUG, il passaggio dalla nera bordata di giallo al primo duane è un passaggio molto particolare, dove il nostro atleta, con un sistema a sequenza, ok? Le tecniche a sequenza che partono dal primo grado, quindi dalla cintura bianca, sin ad arrivare alla nera bordata di giallo, deve dimostrare di conoscere tutto quello che è il nostro sistema. Senza poter dimostrare tutto quello che ha fatto fino a quel momento, non ci sarà il passaggio alla cintura nella primo duane. Una volta che si è dimostrato e ci si può nominare comunque primo duane, si inizia lo studio del nostro manichino di legno, Munchiangion. Il Munchiangion ha due programmi, il primo e il secondo duane. Il nostro percorso del dummy si studia sin dall'inizio del percorso di un allievo, quindi si arriverà sicuramente allo studio della forma del manichino in modo più, con una qualità diversa, con delle tecniche che la maggior parte delle persone conoscono, in quanto allenate anche precedentemente. In queste due fasi, in questi due programmi, il manichino viene studiato insieme alla conoscenza dell'applicazione delle tecniche che il manichino ci fornisce e anche allo studio dell'allievo, quindi il manichino a vuoto. Una volta finito il manichino, si passa alla prima arma del dummy, e si va a studiare il terzo duane, il bastone lungo. Lo di Munchiangion, bastone di 6 punti e mezzo. Questo naturalmente è un bastone di allenamento, il bastone è lungo circa 3 metri. Il bastone lungo prevede anche su due gradi, terzo e quarto duane, per poterlo allenare. Teniamo conto che il nostro sistema prevede circa 6 mesi di allenamento, prima di utilizzare il bastone, di un esercizio che si chiama Jin Choi, che va naturalmente a preparare quello che è il percorso con l'uso del bastone dello studente. L'ultimo step del nostro sistema sono i coltelli a far palla. Marciamolo, coltelli degli 8 tagli. I coltelli sono l'ultimo step del nostro sistema ed è previsto lo studio del quinto duane. Il quinto duane comprende solo e esclusivamente i coltelli a far palla. Una volta che noi abbiamo studiato la forma dei coltelli a far palla, si impara naturalmente ad usare le tecniche di attacco e di difesa con i coltelli, si deve passare l'esame al sesto duane. Una volta che il sesto duane viene confermato, si può dire finito il percorso dell'atleta. Questo comprende una serie di valutazioni durante l'esame di ripasso e comunque di verifica di tutto il sistema. un nostro atleta, un nostro istruttore, il nostro sifu, qualsiasi persona, deve dimostrare di avere un allenamento costante di tutte le forme e quindi di tutte le tecniche del nostro sistema. ma con questo possiamo dire che lo studio di tutte le forme, di tutte le armi del wichu è concluso. possiamo solo dire una cosa, che non si finisce mai di imparare, quindi non smettiamo mai di praticare, perché ricordiamoci che solo, esclusivamente, la pratica rende perfetti. adesso io voglio annunciare naturalmente quello che sarà il futuro in questo periodo di chiusura diciamo delle palestre e comunque dei corsi e vogliamo dare la possibilità a tutti, ripeto, di vederci online. Quindi abbiamo già iniziato a mettere dei video dove spieghiamo passo per passo i vari programmi del nostro sistema. Quindi seguiteci, seguite le nostre pagine, andate a iscrivervi presso la nostra pagina YouTube dove anche questo video verrà pubblicato. Grazie a tutti per l'ascolto. Vi ringraziamo di aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un like o anche un commento e mi raccomando condividete. Per non perdervi tutti i nostri video iscrivetevi alla pagina e sotto, in descrizione, trovate anche tutti i nostri link alla pagina Facebook, Instagram e al nostro sito internet. Al prossimo video! Grazie a tutti!